Incesso di nuovo, Apple è stata bloccata dall'Unione Europea, stiamo parlando che è stata bloccata sull'Apple Intelligence, cioè il fulcro del nuovo sistema operativo, è stato di nuovo bloccato, non solo hanno messo a side loading l'Europa, cioè si facciamo scaricare virus a quantità industriale agli utenti da Safari, no non gli bastava quello, ha messo anche un blocco per Apple Intelligence perché ha detto no aspetta non è che la possiamo fare passare liscia, prima li blocchiamo e lo facciamo rilasciare nel 2027, nel 2026 Apple Intelligence, così facciamo bestemmiare gli utenti europei e questa cosa non è risolvibile neanche con la VPN, ma prima che commentiate e attaccate, un secondo che vi spiego un pochettino cosa è successo, ieri 21 giugno è stata rilasciata una notizia dal Financial Times, una testata giornalistica molto importante perché Apple ha rilasciato appunto una comunicazione ufficiale a questo giornale dicendo che Apple Intelligence non sarà disponibile in Europa, né in Germania, né in Belgio, né nel Regno Unito, né in Svizzera, né in Italia, da nessuna parte sarà disponibile, cioè l'Europa è tagliata fuori da questa intelligenza artificiale, oltre alla Cina, ma la Cina ha motivi che sono questioni politiche, ma qua sono questioni che abbiamo a capo alla Commissione Europea degli Incompetenti, perché se ci fate caso, ora non per essere scortese tra moltissime virgolette, ma ci fate caso che sono soggetti che non ne capiscono niente e non sono nell'ambito completamente della tecnologia, quindi portano questa incompetenza agli utenti, facendo bestemmiare gli utenti dell'Unione Europea appunto che vivono nell'Europa e quindi non possono soffrire di queste nuove funzioni, funzioni perché già hanno bloccato, hanno bloccato OpenAI e l'hanno risolto, hanno bloccato Apple e quindi gli hanno fatto mettere le side loading e quindi hanno fatto scaricare applicazioni agli utenti da dove cavolo gli piace, da dove prima gli passa per la mente scaricandosi le peggio cose, no, anche la terza cosa, cioè significa che l'intelligenza artificiale è bloccata, quindi noi con iOS 18 non solo Apple ho già messo questa questione che starà disponibile solo per iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, ma anche chi acquisterà iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max in Europa l'intelligenza artificiale se la può, a meno che Apple non si esplica ad adeguarsi, ma cosa che entro settembre è apparentemente impossibile perché hanno il sviluppo, i nuovi software a carico, hanno i nuovi dispositivi da lanciare e diciamo che non so fino a che punto ce la faranno da qui, quindi dal 22 giugno fino a settembre ad adeguarsi alle norme europee, quindi saranno bloccati praticamente in particolare lo share play, quindi il mirroring dello schermo e l'altra funzione per esempio, anche la più banale per esempio, quella di andare a cercare le mail tramite intelligenza artificiale oppure chiedere qualcosa, ma soprattutto quello che ha fatto diciamo l'Unione Europea è bloccare soprattutto certi GPT su iOS 18, cioè una della novità principale, ciò significa che rimarremo con iOS 18 base, cioè significa che saranno i classi cambiamenti di estetica, ma di funzioni non sarà cambiato niente, resterà uguale e quindi saranno solo le funzioni estetiche, cioè non avremo Siri nuova, non avremo la nuova cornice, non avremo niente, avremo una versione scarna, una versione europea, diciamo così, una versione per incompetenti e quindi diciamo ci dovremo tenere per qualche mese, anche più di qualche mese, iOS 18 che non serve a niente, in poca parola, perché ha solo dei... già che iOS non ha avuto tutte queste evoluzioni negli ultimi anni, poi gli mettiamo anche che non si può usare l'Apple Intelligence e siamo a posto. Ragazzi, non c'è niente che dire, c'è... questo qua era il video diciamo aggiornamento, ma più che altro sfogo, perché non capisco perché l'Unione Europea ce l'ha con Apple e in particolare con l'intelligenza artificiale. Apple vi ha anche assicurato il private computing, cioè tramite il loro chip M1, M2, M3, M4, vi ha assicurato la sicurezza, cioè significa che i dati cercano di non farli passare per il cloud, elaborando il locale, quindi direttamente sull'iPhone, i dati, quindi cercando ancora di più di minimizzare la dispersione di dati personali. Secondo, Apple inoltre ha fatto per l'Europa già una versione differente, perché ChatGPT si dice che sia integrato in una maniera diversa da quella degli Stati Uniti e degli altri stati, cioè che ci chieda di accedere dal nostro account con l'età verificata, cioè come dovremmo fare quando accediamo a chat.openai.com, quindi per accedere a ChatGPT alla chat, noi andiamo a verificare la nostra identità con l'età minima, eccetera, eccetera, cosa che dovrebbe essere fatta anche su iOS, cosa che non servirà perché hanno tolto totalmente Apple Intelligence, quindi questa qua diciamo era la video news, il video news così veloce per così sfogarmi un pochettino, perché secondo me non è giusto, non lo so, secondo me abbiamo degli incompetenti in Commissione Europea e basta. Fatemi sapere la vostra, non lo so, non attaccate perché vi banno a tutti. Arrivederci.